Buongiorno a tutti, benvenuti su Max Park Fit adesso proveremo la macchina per i dorsali con un sovraccarico di elastici io li provo tutti e tre ma ovviamente faccio un braccio alla volta quindi un dorsale alla volta per evitare di eseguire male l'esercizio un'esercizio se vi piacciono i contenuti cliccate la campanella, seguitemi, buon allenamento